Non ci vorrà molto prima che i nazisti arrivino. Entra! Non si torna indietro, BJ! Non fermarti! Non ci vorrà. Non ci vorrà. Non ci vorrà. Mirna! Merda! Sous-titrage Société Radio-Canada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Blazkowicz. Sono qui, Wesley. Bene, bene. Ci tirerò fuori da qui. Sei mai stato in Snowdonia, Blazkowicz. Grazie. 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 No, mai. E' un luogo desolato, maestoso e splendido. Colline a perdita d'occhio. La mia madre mi portava lì a fare delle passeggiate. Era così felice. Preparava un cestino con pane e formaggio. Una bottiglia di birra per lui e una bibita per me. Una volta abbiamo persino trovato un fossile. Lo stesso giorno mi sono rotto un piede scivolando su una pietra umida. Il giorno più bello della mia vita. Mi sarebbe piaciuto tanto. Sera, ufficiale. Dannazione. Topi. Dannazione. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.